Le crisi internazionali saranno al centro del G7 degli esteri che si terrà dal 17 al 19 aprile a Capri. L'isola è blindata da ferre misure di sicurezza e rigido rispetto dei protocolli. Fino a venerdì sotto la presidenza italiana e la guida del ministro e vice premier Antonio Tajani, i capi della diplomazia dei Sette Grandi affronteranno una ministeriale fitta di temi di discussione, ma con due strade obbligate sullo scacchiere politico internazionale, ridurre il clima di tensione e odio in Medio Oriente ed evitare che il conflitto in Ucraina si allarghi all'Europa e alla Nato. Per quanto riguarda il piano di sicurezza mobilitate, 1.400 unità delle forze dell'ordine tra Capri e Napoli, pronti a entrare in azioni subacquei dei vigili del fuoco, posti di blocco nelle tre zone nevralgiche, in cui è stata suddivisa l'isola, la zona rossa e attorno all'hotel Quisisana, sede del Summit. Checkpoint nell'area del porto, chiuso lo spazio aereo, trasferimento delle delegazioni a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera, scortata da unità della Guardia di Finanza, divieto di attracco per i turisti nel porto di Marina Grande e Grotta Azzurra, presidiata da una motonave della Capitaneria di Porto. Un sistema di protezione imponente con misure di sicurezza innalzate anche alla luce dell'accresciuto rischio di attacchi terroristici, previsto l'impiego di droni.